Oriago, dopo il violento pestaggio con rapina avvenuto in una villetta, l'appello della Presidente della Provincia. Penso che tutte le istituzioni dovrebbero nuovamente rivolgersi al prefetto e che la Commissione per la Sicurezza che abbiamo in prefettura dovrebbe affrontare il problema non relativamente alle singole realtà dove i fatti avvengono, ma ad un territorio che presenta dei numeri sempre più elevati rispetto a questi fatti.